L'unica accusa ancora in piedi è quella di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per tutti e tre gli indagati. Nel cellulare di Nasiria Kim e dalla visione della pagina Facebook, scrive il GIP, sono assenti la riproduzione e la conservazione di scene di martirio, dovendosi quindi escludere che i video e i fotogrammi estrapolati avessero finalità di addestramento e di allenamento personale alla Jihad. Il giudice esclude che il gruppo fosse impegnato in attività di ricerca, selezione, riproduzione di documenti idonei e a diffondere l'idea terroristica, indicando comportamenti e modelli operativi a cui ispirarsi. Il GIP poi non ritiene provata l'eventuale raccolta di denaro per il finanziamento di attività terroristiche da parte dei componenti del gruppo, di cui il fermato avrebbe fatto parte al fine di mettere il denaro a disposizione di altre cellule combattenti. In altri termini non è stata fornita in alcun modo la prova della sussistenza di attività circa l'operatività della cellula nel perseguimento della finalità di terrorismo internazionale, quale ad esempio l'attività di addestramento al martirio di nuovi adepti da inviare nelle zone teatro di guerra, ovvero la raccolta di denaro destinato a sostegno economico dei combattenti del Jihad all'estero. Video troppo brevi e foto di monumenti non costituirebbero, secondo il GIP di Bari, immagini carpite per pianificare attentati terroristici. Quanto alle foto scattate all'ipercoppa al porto e aeroporto di Bari, la ripresa dei luoghi data la loro brevità non rappresenterebbe neanche ipotetici bersagli. Grazie a tutti.